Assessore, questa mattina ad Imperia ha effettuato una visita, un sopralluogo ai cantieri del porto. Cosa è emerso da questo incontro? Innanzitutto è una visita che nasce da un invito da parte degli operatori stessi dei cantieri del porto d'Imperia, del nuovo porto turistico d'Imperia. Era da settimane che era in calendario e oggi sono voluto andare a trovarli. Per fare un po' il punto della situazione mi hanno voluto far vedere il grande lavoro che stanno facendo nel bacino del porto nuovo turistico, nella zona appunto dedicata ai cantieri. Ho visto tante attività, tante barche di varie dimensioni, quindi una grande attività da parte dei nostri cantieri e anche la voglia, questa è l'importante, la voglia ancora di crescere e di poter sviluppare meglio il loro lavoro in quella parte appunto dedicata alla cantieristica che vuol dire per la città d'Imperia sviluppo, crescita, posti di lavoro, occupazione. Il porto turistico è oramai fermo. Noi come Regione Liguria siamo perché il porto riparta, riprenda il suo iter, venga completamente terminato laddove bisogna ancora intervenire, ma diventi a pieno regime sia la parte ovviamente dell'attacco turistico, sia per quanto riguarda le opere che devono ancora essere fatte per avere la piena funzionalità del porto turistico. Come Regione siamo stati attivi, parte attiva, per quanto riguarda gli atti che la Regione doveva fare, per quanto riguarda il porto di Ospedaletti, recentemente il porto nuovo di Ventimiglia, tanto più quello di Imperia perché ha anche un valore numerico qualitativo, non solo quantitativo, importante. Speriamo che dopo le strumentalizzazioni politiche, i giochetti antipatici che ci sono stati da parte di alcune forze politiche qui ad Imperia per demolire non solo fisicamente il porto, ma anche per demolirlo nel cuore e nell'animo dei cittadini di Imperia, adesso con la Regione e l'amministrazione Totti in piena vicinanza e sintonia verso questo tipo di obiettivo, si possa operare e arrivare con più serenità perché Imperia ultimamente è stata poco serena, si possa arrivare con la massima serenità ad avere veramente un porto turistico importante, dove la cantieristica dovrà avere un ruolo centrale, perché oggi, con i miei occhi, ma già lo sapevo, ci mancherebbe a Vitand vivendo qua di Imperia, però oggi con i miei occhi abbiamo potuto anche con alcuni funzionari che ho voluto portare a Imperia da parte della Regione Liguria, abbiamo visto quanta ci sia voglia di fare, quanto ci sia qualità, quanto ci sia professionalità nei nostri operatori e quindi ci sono tutte le condizioni per far sì che il porto di Imperia diventi veramente un'eccellenza.